Buongiorno dalla redazione di Telemolise, primo appuntamento con la nostra informazione. Parliamo in apertura ancora una volta di protezione civile perché tornano a far sentire la propria voce i precari che hanno scritto al Ministro Madia e al Presidente della Repubblica Mattarella per sollecitare il loro intervento e ripristinare le regole, hanno detto. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Non sanno più a chi rivolgersi, a quale santo votarsi, precari della protezione civile del Molise che erano stati assunti con contratto a tempo determinato per la ricostruzione post terremoto. Da un anno hanno terminato la loro attività ed ora chiedono che venga annullata la determina dirigenziale con la quale l'Agenzia regionale di protezione civile seleziona nuovo personale. Dopo essersi rivolti in vano ai vertici della regione, oltre che a quelli della stessa agenzia, i precari hanno scritto direttamente al Ministro della Pubblica Amministrazione Madia e perfino al Presidente della Repubblica Mattarella affinché si accendano i riflettori sulla loro situazione. I lavoratori erano stati assunti dalla struttura commissariale per fronteggiare l'emergenza che si era venuta a creare dopo il sisma del 2002. La loro attività è andata avanti, tra varie proroghe dello stato di emergenza, quasi ininterrottamente fino al 30 aprile 2012, quando le attività sono state interrotte. In quel periodo la regione istituì l'Agenzia regionale di protezione civile e attraverso un concorso pubblico furono reperite 218 persone tra ingegneri, architetti, geometri e avvocati che avrebbero dovuto lavorare per 36 mesi. I rapporti di lavoro si sono chiusi il 29 febbraio 2016, ma a settembre dello stesso anno la stessa Agenzia ha bandito un nuovo concorso per il reclutamento di nuovo personale per lo svolgimento delle stesse attività svolte dei lavoratori che sono stati invece mandati a casa. Il personale con esperienza decennale selezionato con regolare concorso è stato mandato a casa, si legge nella lettera inviata al Ministro, azzerando di fatto un patrimonio di competenze professionali per ripartire da capo, con nuovo concorso per nuovi lavoratori, con evidente dispendio di denaro pubblico, l'illusione dell'attuale normativa che prevede, in presenza di specifici requisiti, l'avvio alla stabilizzazione. Dobbiamo abituarci all'idea che in Molise si viva fuori dalle regole? Noi viviamo in uno stato di diritto ed è anche compito del Governo centrale vigilare affinché queste distorsioni non si verifichino. È l'accorato appello dei precari che chiedono di poter rincontrare il Ministro per illustrare la situazione in cui si trovano. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di arte e dell'assenza materica. È il tema della mostra inaugurata a Spazio 180 nel centro storico di Isernia. Ci dice di più in questo servizio Enzo Di Gaetano. Ancora un vernissage d'autore a Spazio 180 all'angolo degli artisti nel centro storico di Isernia, curato in ogni minimo particolare da Gennaro Petrecca, amante dell'arte e di tutte le sue espressioni, sempre a caccia di artisti e talenti. Questa volta ha portato a Isernia le opere di Silla Cambanini, poliedrica artista, pittrice e ceramista. Una scoperta che ho fatto nel pieno della campagna ferrarese, bolognese, perché Silla è di Pieve di Cento, uno splendido borgo in provincia di Bologna, e avevo visto qualcosa della sua arte. Mi ha colpito molto la forza espressiva di questa persona che chiaramente ho voluto conoscere poi, andandola a trovare immediatamente nella sua tana, come uso fare di solito con gli artisti, perché il luogo in cui l'artista vive già ti dice molto della sua natura. E ho scoperto in Silla una persona straordinaria, piena di energia, d'altronde la sua opera, dal punto di vista sia coloristico, sia dal punto di vista dell'assemblaggio dei materiali, dal punto di vista delle figure che vengono espresse, poi le opere d'arte vanno lette in mille modi, ha molto di introspettivo, ma di un'introspezione che però dà l'idea della sua natura, una natura vulcanica, una natura in eterno movimento, proiettata sempre tra quello che può essere un classicismo, che lei ha innato e una inquietudine interna che la porta ad alcune deformazioni pittoriche dell'uso del colore che in alcuni tratti ricordano Munch, ricordano insomma questi pittori che dentro hanno un'energia sommersa molto forte. Silla Campanini cerca essenzialmente di trasmettere emozioni e ci riesce con un'arte piena di novità, contenuti e significati ricchi di forme anche misconosciute. Rappresento me stessa e quindi sono esplicitamente autentica e poi vorrei che gli altri si ponessero delle domande, cioè interrogarsi, questo è, cioè interrogarsi sul futuro dell'uomo, sul futuro, sui contenuti della vita, sul perché di certe situazioni e quindi a volte mi rappresento un po' un po' apocalittica proprio per far sì che l'uomo riveda un po' se stesso. Volevo chiaramente con l'occasione ringraziare anche la dottoressa D'Antonino, Carmen che è una persona che ha fatto degli egregi studi presso l'Università della Sapienza in storica dell'arte e che caparbiamente resiste in Molise perché chiaramente questo tipo di attività non è facile portarla avanti qui e il mio tentativo è quello di trattenere quanto più possibile i giovani valori nella nostra regione per evitare che si desertifichi sempre di più. Passiamo adesso a uno sguardo ai giornali online e ai giornali che troveremo in edicola oggi con la rassegna della stampa. Partiamo dal giornale del Molise che sceglie l'apertura sull'area di crisi ai fondi europei, la regione in netto ritardo, i 5 Stelle e la Will, rischio, la ripresa economica e produttiva del Molise. Poi nel taglio basso parliamo di Termoli e del terzo corso con un nuovo volto per i lavori spediti per la riqualificazione. Poi dopo San Giacomo anche a Portocannone un punto denuncia dei carabinieri e più in basso gli auguri a una centenaria in festa a Chiauci per la signora Angela Di Leonardo. E più al centro la gestione delle risorse idriche e dell'Egam, coscienza civica, la regione faccia chiarezza, la cronaca da Isernia e nel percorso congressuale del Partito Democratico Scarabbeo sceglie di stare con il guardasigilli Orlando. Ieri a Campobasso, lo troveremo anche sulle prime pagine dei giornali, Michele Emiliano per la corrente che in Molise fa riferimento al senatore Roberto Ruta. Passiamo ai giornali, cominciamo con primo piano. Come dicevamo l'apertura è sul Partito Democratico. Emiliano, siamo l'alternativa secca al nulla lucente del renzismo. Una delle frasi forti del governatore della Puglia, il candidato alle primarie riscalda la platea molisana, combatto per un PD che tenga dentro il progetto ulivista dai cattolici democratici. Alla sinistra ha detto alla sala della Costituzione della provincia, in un primo momento la riunione doveva svolgersi nella sala consigliare del comune, ma troppo piccola per ospitare le tante persone che erano venute a sentire. Il governatore della Puglia, il senatore Ruta Lolancia, Michele è una persona vera, uno che la politica la fa con il cuore. Nel cassettone due notizie di cronaca, in qualche modo cronaca nera trascina una giovane in garage e tenta di violentarla, denunciato un settantenne e poi il servizio delle Iene che ancora una volta tornano a inseguire il vicepresidente della regione Facciolla si è costruito una reggia con i soldi del terremoto. Nel taglio centrale, ancora cronaca, anziana raggirata da un tecnico del computer e da un finto nipote, un classico delle truffe che hanno per vittime soprattutto le persone anziane e poi da Carovilli, no alle adozioni gay, Don Mario, un prete arcaico e medievale. Lasciamo primo piano, andiamo al quotidiano che titola in sostanza nello stesso modo con la vicenda di Facciolla nel cassettone, le Iene ancora all'attacco, l'assessore servizio violento e falso, il Partito Democratico, questa l'apertura vera, Emiliano tuona noi la vera alternativa a Campobasso, il partecipato incontro con il candidato alle primarie che sfiderà Renzi e Orlando e poi la polizia indaga a Campobasso per un accoltellamento in centro e caccia al complice, oltre al 25enne accusato di lesioni personali gravi, c'è un altro giovane coinvolto nel violento episodio di cronaca e da Campobasso il confronto via Toscana, Battista e Sosto, il centro prelievi resta aperto, si era paventata questa ipotesi che il laboratorio della Asrem a Via Toscana potesse essere chiuso e Sosto, smentisce questa soluzione. dal primo piano alla Gazzetta, mobilità attiva, la positività sanitaria del Molise, la regione al quinto posto grazie ai 27 milioni di euro di saldo, troppi molisani però si curano fuori nonostante le strutture in regione. Futuro Molise sceglie di aprire invece con una notizia di cronaca che arriva da Sessano del Molise, svaliggiato il Barbara Onda, 5 mila euro il bottino, accanto il Partito Democratico con Totaro, la sanità in mano ai privati e il basso Molise Fanalino di Coda, poi nuovo dirigente dell'area tecnica del comune di Sernia da Pollonio, notizia il tutto priva di fondamento e sempre da Isernia allo start, nuovo ecopunto intercomunale per la raccolta dei rifiuti. Brexit e Unione Europea, le aperture che troveremo su quasi tutti i quotidiani, cominciamo con la Repubblica, Scozia al voto per restare in Europa, Unione Europea all'Italia, manovra sia più pesante, ancora una volta il monito di Bruxelles, da Londra arriva il sì definitivo alla Brexit, la Turchia sospende i rapporti con Olanda, rivedere l'intesa sui migranti, un titolo pastone sulla politica estera del quotidiano fondato da Scalfari, diretto da Calabresi, nel taglio centrale, boom in America della tecnica contro la morte improvvisa, la fotonotizia è un neonato finlandese nella baby box regalata a tutti i neogenitori e poi nel taglio basso la scienziata italiana a Harvard da Bidella mancata a signora dei cervelli e questa signora che arriva dall'Italia, sognava di fare la scienziata in Italia, Sabina Berretta, ma dopo anni di ricerche non pagate l'unica via sembrava un posto da Bidella, fallita anche quella e partita per l'America, ora dirige la più grande banca dei cervelli del mondo e questo insomma dovrebbe essere da monitor. Il Corriere della Sera, anche qui la Brexit è l'apertura, la Scozia sfida Londra, il caso Europa, la Camera dei Comuni approva l'uscita dall'Unione Europea, ora manca il via di Downing Street, la Premier Sturgeon, questa è scozzese, voto per l'indipendenza entro marzo 2019, May, il primo ministro dell'Inghilterra, contraria, ricorderete che in Scozia c'è già stato un referendum analogo e che aveva però determinato la vittoria di quelli che non volevano sfilarsi dal Regno Unito, adesso il primo ministro scozzese ripropone dopo la Brexit questa situazione, questa scelta che viene sottoposta al popolo, scissionisti all'attacco su Lotti, scontro con il Partito Democratico, mozione antiministro, si profila un voto sul filo del rasoio per Lotti dopo la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle, in un primo momento si era detto, perlomeno quelli che i fuoriusciti dal Partito Democratico, Speranza, Bersani e Rossi avevano garantito un voto morbido, invece potrebbe profilarsi uno scontro anche interno. E poi i rischi delle nuove sostanze chimiche, i ragazzini e la droga, maxispaccio a scuola. Andiamo a vedere la stampa di Torino, restiamo al nord e anche qui vedete Scozia e Turchia scosse per l'Europa, Edimburgo prepara un nuovo voto per il divorzio dagli inglesi contro la Brexit, Erdogan minaccia l'Olanda che vota domani, stop al dialogo diplomatico, visco per l'Unione Europea, il rischio è la paralisi. La Camera vuota per la legge sul Biotestamento, in aula solo 20 deputati per l'avvio del dibattito iniziato ma immediatamente sospeso, nei giorni scorsi si era fatto un gran parlare dopo la scelta di DJ Fabo di questa vicenda e come erano state fatte le previsioni della vigilia sono state rispettate, quando i riflettori sono accesi su situazioni così ne parlano tutti, poi in realtà si sfilano quando si tratta di discutere la legge. Titolo del manifesto Teste di Turco, titolo forte del quotidiano che titola anche in questo caso sulla politica estera, alta tensione tra Olanda e Turchia a poche ore dal voto nei Paesi Bassi, vietato il rientro dell'ambasciatore olandese, Erdogan attacca la Germania e minaccia l'Unione Europea, rischio l'accordo sui migranti, la Nato basta eccessi. Dal manifesto al fatto quotidiano che apre in politica estera ma con un altro taglio, l'intervista ad Assad, per la Siria i diritti umani ora sono un lusso, il terrorismo e la crisi dei rifugiati sono tutta colpa di voi europei, Presidente dobbiamo sconfiggere nemici e ribelli, poi si potrà parlare di politica e del resto con gli americani, l'Isis avanza con i russi, arretra. La politica interna nel taglio centrale quando i due Renzi facevano i giustizialisti col sindaco dei democratici di sinistra, erano nel Partito Popolare, fecero cadere il rivale indagato e poi assolto. I due Renzi naturalmente sono padre e figlio, la campagna di Matteo e Tiziano contro Settimelli, il primo cittadino in Rignano accusato di essersi venduto a un imprenditore per una BMW, dieci anni dopo la Cassazione disse, il fatto non sussiste, domani mozione di sfiducia al Movimento 5 Stelle contro l'Otti, i bersaniani alzano il tiro, Gentiloni gli ritiri le deleghe. Andiamo a vedere i due quotidiani di Roma, cominciando dal manifesto, sia a Brexit la Scozia non ci sta, la politica estera e poi nel posticipo la Lazio batte il Torino 3 a 1 e si riprende il quarto posto dal messaggero al quotidiano di Piazza Colonna, vediamo il tempo, apertura tutta romana o quantomeno sulla scia di quello che è accaduto a Napoli, boom di teppisti metropolitani, ecco il dossier centri sociali, l'antiterrorismo dal Veneto alla Sicilia, i segreti dei vandali e i delinquenti napoletani fermati dopo gli scontri sono già liberi, anche sul tempo c'è grande spazio alla vittoria della Lazio e poi parla l'ambasciatore turco in Italia, l'Europa a rischio destra xenofoba. Andiamo a vedere avvenire il quotidiano dei Vescovi anche qui sull'Europa, l'Europa nella bufera, un braccio di ferro con Erdogan che ora minaccia Londra dall'addio, la Scozia lo promette a Londra, anche qui titolo pastore su tutto quello che sta accadendo, quattro anni dall'elezione di Papa Francesco, un po' dimenticata dobbiamo dirlo dagli altri giornali, qui finisce invece con grande risalto nel taglio centrale, Francesco quattro anni con misericordia, la CEI, Santo Padre a lei, i nostri quattro grazie, l'anniversario dell'elezione, continuate a pregare per me e dall'avvenire vediamo Libero, nei ministeri non fanno un tubo, apertura completamente diversa, tra ferie, malattie e permessi, gli statali che lavorano nei di Casteri raggiungono vette record di assenteismo, i peggiori al tesoro il 32% degli impiegati con picchi del 50% non va in ufficio e poi punti pubblici non tornano, il Partito Democratico vuole scendere in piazza con i migranti, leader del Partito dei Profughi, anche qui insomma apertura che è tutto un programma, dell'ex Renato Farina indagato, insomma le sue vicende sono note con Veltroni, Orlando e Orfini, sarebbero loro i leader del Partito dei Profughi, lasciamo Libero e vediamo il mattino che si autocelebra con 125 anni di vita, il mattino festeggia l'anniversario con un premio letterario e due inserti speciali in omaggio, tutte le prime pagine più importanti, le pagine della storia del quotidiano di Napoli. Chiudiamo con le notizie sportive della Gazzetta dello Sport, i colpi nel carrello di Pioli, supermercato Inter, vediamo nel dettaglio di Maria Omertens i grandi obiettivi, il centrocampista all'esterno del Paris Saint Germain e quello invece del Napoli, i grandi obiettivi, poi Strottmann e Berardi e tanti altri per Suning al lavoro per il prossimo scudetto, diciamo apertura interlocutoria della Gazzetta, la coppia dei campioni, Higuain e Dybala avanti, Allegri, Milan, Follia, continua la polemica per la partita allo Stadium, alle 20.45 intanto tra la Juve e i quarti c'è il Porto, già battuto 2-0 all'andata, Max, l'allenatore e i veleni con i rossoneri si sono visti i 20 punti, in più gira il coltello nella piaga Allegri, la Lazio non è solo immobile, Keita entra e infilza il Toro nel posticipo e poi Conte stende Mourinho nella Coppa di Inghilterra, 1-0 e poi niente saluti, il Chelsea elimina l'United in 10 per un'ora, gol di Kanté, ancora tensione tra i due tecnici e con questa notizia ci fermiamo, vi rinnovo l'appuntamento con la rassegna stampa domani mattina, l'appuntamento con la nostra informazione è come sempre per le 14 con la prima edizione del telegiornale, per ora è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata.